Barcollava e stava perdendo anche il paradenti, stava perdendo per cui... C'è stato un colpo in più, diciamo, speriamo che non abbia danneggiato... No, sicuramente, però il secondo colpo poteva essere evitato, sì, questo... Comunque... Certo, noi l'abbiamo visto al rallentatore? Sì, ma anche a velocità naturale, anzi vorrei pregare il regista, l'Egidio Luna di riproporre magari a velocità normale questa fase. Velocità normale? Sì, facciamo ancora la rallentatore, comunque... E questo è il sinistro, vedi? Questo qui. Lui già Barcollava e già qua doveva essere un urlo dell'abito da dare un break. Ecco, lo corre e non ha fatto tempo. Ecco, doveva urlare più che arrivare. Sì, volevo vedere velocità normale se era in grado di... Comunque, vediamo... Evitare... All'angolo c'è anche il medico, il dottor Mulas, però... Niente di che, appare comunque cosciente al 100% per Nice. Per cui... Sì, è stato l'incontro dove... Una soluzione per K.O. Eccolo qua, vediamo normale. Ecco, benissimo. Ecco il sinistro. Eh beh... Troppo, ti ho detto... Però un urlo doveva arrivare. E avrebbe dovuto abbracciarlo proprio da dietro. Comunque, è chiaro... E' chiaro che le reazioni non possono essere così fulmine. Grazie, grazie. L'abbraccio di Perna. Ricordo che sono compagni in scuderia i suoi fuggili. E ha denorato Perna. E qui ad Alghero, in attesa del verdetto, in attesa che Fernice si riprenda completamente. Non si può non ricordare il torneo di Novizzi che si disputava fino a poco tempo fa. L'anima ne era Nino Paulesu. Che in questo momento ha qualche difficoltà fisica. Un caro e fraterno saluto all'amico Nando. Mentre, eccolo qua, Francesco Pernice. Completamente ripreso, sì. Viene salutato dagli applausi del pubblico di Alghero. Generosissimo Pernice, ma Perna, pur con qualche difficoltà, è riuscito a vincere questi incontri in maniera concreta, prepotente, nella sua conclusione. Prima abbiamo assistito anche agli incontri di Novizzi e tanti. Sì, con questo Giuseppe Silanus, in vero notevolissimo. Vorrei poi poterlo presentare al pubblico. Ed eccoci al verdetto. L'abbraccio, fratelli, tra i due fuggili. Adesso aspettiamo, intervistiamo il campione. Intervistiamo Pasquale Perna. Applausi per lui. Da parte del pubblico presente. Vittoria, ripeto, per K.O. di Pasquale Perna, che si conferma campione italiano dei pesi Welter. Ed eccolo qui, Pasquale Perna, segnato in volto, ma una difesa, lo si dice prima, nello spogliatoio. Forse è più difficile di quanto tu potessi mai immaginare. Sì, perché è un avversario che non si conosce tanto. Quindi, poi, ho avuto l'opportunità di fare un titolo italiano. Oggi ciò non è proprio facile fare un titolo italiano. Finalmente, nei pesi Welter, se qualcuno segue il pucilato, si sono riconformati un sacco di pucili in questa categoria. Quindi, me l'aspettavo uno difficile, ecco qua. Che veniva preparata. A un certo punto hai rischiato anche di perdere il colore preferito. Perché ho visto che accusava i coppi, però non cadeva. Allora, quando si sta sul ring, si pensa una sola cosa, di vincere. Quindi, ho tentato un po' di volte, visto che se lo beccavo bene, ci andava. Ti ha messo anche in difficoltà, perché noi, se andiamo a vedere un attimo, come è andato l'incontro. Era la terza ripresa. Era la terza, no. La terza ripresa. E poi, nella quinta, anche. Comunque, è andato stato un bel lingone. Sicuramente, me c'è stato più duro di come tu te lo aspettavi. Sicuramente, sì, sì. Vi ripeto, perché... Sì, ecco. Quindi, sinistro, sinistro... Sì, ma questi colpi li ha presi pure prima, quindi... Sei accorto dopo il primo colpo che lui era già noccato, praticamente? Sì, ma pure prima, cioè, ripeto, ho visto giusto. Cioè, vedevo che lui accusava i coppi, però, strano, non cadeva. Quindi, però, questa volta, effettivamente, ci stavano bene i colpi. Pasquale, questa, lo diciamo prima, è una categoria straordinaria. Cioè, un campione del mondo che è Alessandro Dura, un campione europeo è Michele Piccirillo, un campione intercontinentale che è Zulu, un campione italiano che ha 36, 35 incontri... Purtroppo ci siamo lonti quanti, quindi... Spero che qualcuno mi tenga in considerazione, uno di questi grossi campioni che avete nominato. E forse, mi confermo pure io, cioè, in quella categoria superiore. Qui non c'è Rocco Agostino, occorre a chiedere magari a lui che intenzioni ha di fare di Pasquale Perna, perché non puoi continuare a difendere il titolo italiano, insomma, no? No, non c'è negli spogliatoi, forse... No, no, è stato dato già via. Comunque, questa è una cosa, se me lo consentite. Sì. All'amministrazione ti dovrò annunciare. Cioè, gli dico che io sto qua. Questo è tutto. Grazie. Grazie a Pasquale Perna. E veniamo a questo giovanissimo. Giuseppe Silanus, un pugile che ha scatenato l'entusiasmo. Nino, benvenuti, che è tutto dire, Nino? Sì, devo dire che Silanus, questa sera, mi ha entusiasmato, perché ha combattuto tre riprese da dilettante e già campione d'Italia dei novizi, in una maniera che colpi così belli si vedono solo raramente. Perciò io ritengo che Silanus avrà un futuro. E chissà, un giorno potremmo dire, l'avremmo intervistato con Mario Mattioli per primo nella nostra televisione, ed ecco che è diventato campione del mondo. Adesso non ti botta la testa, però. Com'è stato il tuo incontro? Bellissimo. Il tuo avversario era difficile, molto potente, pesante, però tu riuscivi sempre ad evitarlo e da rientrare. Raccontami, come ti sei sentito durante il tuo avversario? Quanto ci metti dai guadagnati? La serie è molto duro, molto pesante anche l'avversario. In sardo puro questo, eh. La tua carriera dilettantistica, speri che fra poco diventi una carriera importante. Penso che la federazione possa tenere in considerazione un pugile come te, che questa sera, detto da me e da Mario Mattioli, ha dimostrato di saperci fare molto, molto bene. Un grande in bocca al lupo da tutti noi e dagli spettatori del pugilato nazionale. Grazie. Benissimo, con una giovane promessa, speriamo che possa diventare una certezza. Ricordiamo che Pasquale Perna ha difeso brillantemente, vincendo per K.O. la settimana di presa, il titolo italiano dei presi Welter. Un ringraziamento al regista di Gido Luna, benvenuti come di concetto, e a tutti per averci seguito fino a quest'ora. Grazie a tutti e buonanotte. Un bel caffè, grazie.